Siete sentiti? Ma io dico la verità. Ormai si parla solo di questo, ho visto pure interviste. Non so se la televisione, se le telecamere possano effettivamente esaudire il rapporto di 25 anni con una persona. Io conoscendo credo che tu stia soffrendo molto. Io soffro molto perché a Loretana voglio molto bene, perché mi rendo conto che spesso i suoi atteggiamenti non presentano questa lucidità, questa razionalità. Quindi questa sua aggressività mi rendo conto che è dettata da un fatto forse di stabilità, di problemi veramente importanti che lei ha dentro di sé. Io spero che lei sia felice, questo me lo auguro di tutto cuore perché le voglio bene, le ho sempre voluto bene. Diciamo che le amicizie non te le puoi scegliere, Mara. A me mi sono capitate Loretana, come tante altre persone, con dei grandi problemi. Ma non mi tiro indietro. Anche se ogni tanto mi prendono appugni, anche se mi maltrattano, anche se mi trattano proprio come uno straccio. Però siamo qui anche per questo, perché se ci avessimo tutti amici sorridenti, probabilmente forse saremmo già nell'Eden.